Musica Approfondire le criticità delle relazioni genitoriali e fornire a mamma e a papà gli strumenti necessari per superarle. È stato questo l'obiettivo dell'incontro gratuito e aperto al pubblico dal titolo Genitori e figli, istruzioni per l'uso, organizzato nella sede di Gea4Family a Bari. Il momento di confronto è stato strutturato in quattro sessioni in base all'età dei figli, dai primi passi alla maturità. Poiché ogni fase della vita ha le sue peculiarità e questo comporta anche la presenza di specialisti di diversa estrazione e competenza. Ci siamo confrontati su quelli che sono i problemi che quotidianamente viviamo da genitori. Gli esperti ci hanno dato delle risposte già tanto interessanti e molti spunti di riflessione. Adesso non ci resta che partire. Io ricordo che ci saranno quattro cicli di incontri. Ogni ciclo sarà formato da tre incontri con i professionisti che questa sera hanno condotto questa plenaria. Il primo incontro è previsto proprio prestissimo, il prossimo 15 febbraio, per i genitori con ragazzi che frequentano gli istituti superiori. E poi a seguire. Ma in ogni caso sulle nostre pagine Facebook e sul nostro sito troverete tutte le informazioni. È stato veramente un bel momento formativo, ma anche emotivo, perché significa che la genitorialità è veramente un passaggio importante in questo nostro tempo. Grazie.